L'epigenetica oggi possiamo considerarlo come il software della vita, quindi qual è la programmazione che noi vogliamo mettere all'interno delle nostre cellule? Il nostro corpo è fatto di cellule, quindi l'interazione che la cellula ha con lo stile di vita, quindi tutto ciò che mangiamo, beviamo, respiriamo e pensiamo e l'ambiente che ci circonda è fondamentale per il buon funzionamento delle nostre cellule, quindi la capacità che le nostre cellule hanno di reagire a quello che facciamo sia con il nostro stile di vita ma anche riguardi l'ambiente dove viviamo, lavoriamo e dormiamo. Quindi oltre alla responsabilità abbiamo bisogno di saperle queste cose, di creare cultura, perché la prevenzione parte dal fatto che se conosco quello che mi danneggia lo posso evitare o limitare e lo stesso posso migliorare sicuramente quello che mangio, lo stile di vita. Questo fa una grossa differenza e questi fattori sono il software della vita, sono il software delle nostre cellule, sono quello che determina la salute di una cellula o la malattia di una cellula. Quali sono i fattori, i meccanismi epigenetici che interessano un pochino la ricerca medica? Diciamo che sono molteplici e d'altronde oggi la malattia moderna è multifattoriale, quindi tutta l'epigenetica coinvolge tutta una serie di fattori, quindi che valorizzati danno all'operatore sanitario uno strumento veramente per modulare quel fattore epigenetico che poi ci porta a essere responsabili della nostra salute.